Roma, stazione Termini. L'arrivo del generale Antunescu e del principe Sturza, ministro degli esteri. Il cordiale incontro del conducator di Romania col duce che gli porge il saluto dell'Italia fascista. Il generale Antunescu ricambia il saluto della Romania legionaria. Dopo le presentazioni dei rispettivi seguiti, il duce, il generale Antunescu, il conte Ciano ed il principe Sturza, attraversata la saletta reale, appaiono dal portico esterno della stazione, acclamati dalla folla. Il generale Antunescu, accompagnato dal duce, passa in rivista lo schieramento d'onore. Verso Villa Madama. Nella prima vettura sono il generale Antunescu ed il conte Ciano. L'arrivo a Villa Madama. Palazzo Venezia. Il duce, presenti il principe Sturza ed il conte Ciano, riceve il conducator dello stato romeno e lo intrattiene in cordiale colloquio per un'altra parte.